Questo stupendo strumento che ricorda anni meravigliosi quella della scesa in campo di Silvio Berlusconi del 94 mi riferisco ovviamente al club di Forza Silvio in cui i giovani di Forza Italia saranno in prima linea saranno all'avanguardia del nostro movimento politico e scenderanno in tutte le terze d'Italia anche da porta a porta con il servizio civile che la politica di un movimento giovanile è proprio e ha un dovere civico di dover svolgere e sarà l'anima portante di costruire il progetto il presidente Berlusconi è sempre riuscito a compiere un equilibrio perfetto tra valorizzazione dell'esperienza e produzione del rinnovamento e dell'innovazione i club Forza Silvio sono proprio questo, saranno la novità del nostro movimento saranno l'anno vibrante che porterà a parte il nostro progetto e lo farà con rinnovato entusiasmo per portare a casa tutti gli elettori indecisi, asteputi o che hanno deciso di votare sulla pianta questo è il nostro grande progetto, la nostra grande missione e il mio ringraziamento va ancora una volta a tutti i giovani militanti di Forza Italia Giovani che sono da tanti anni al servizio del nostro grande movimento e lo fanno con coraggio, con professione, con dedizione e animati da uno spirito di sacrificio che qualche volta davvero è anche poco riconosciuto quindi ancora una volta grazie, in alto alle battiere, siamo noi, siamo il popolo di Forza Italia grazie